Quattro giorni dedicati alle piccole imprese del territorio che propongono ai consumatori servizi e prodotti innovativi. Fino a domenica 13 settembre torna a Pinerolo la rassegna dell'artigianato giunta alla 39esima edizione ed inaugurata alla presenza del sindaco della città metropolitana Piero Fassino. L'obiettivo della rassegna è di offrire visibilità e valore alle produzioni tradizionali e all'innovazione proposta da imprenditori che praticamente ogni giorno reinventano le loro creazioni e i servizi offerti alla clientela per conquistare nuove quote di mercato o consolidare quelle acquisite. Un nuovo spazio è dedicato alla valorizzazione dell'ambiente domestico e all'edilizia artigianale con prodotti come le pavimentazioni in pietra di luserne, i palchetti e gli arredi in legno pregiato. In piazza Facta sono ospitate gli stand istituzionali, la piazza San Donato in cui sorge il Duomo e la Gorà delle eccellenze artigiane. In Largo Lecchio sono presenti le aziende che fanno dell'innovazione tecnologica alla loro missione. In piazza Marconi c'è l'artigianato agroalimentari, in via del Pino i prodotti agricoli di Campagna Amica della Coldiretti. In piazza Caur sono presenti i centri per l'impiego, ma anche le realtà della formazione tecnica e professionale come il CFIQ e l'Istituto Boniva. Il Nerolo da 39 anni organizza questa rassegna dell'artigianato che dà visibilità e valore a quel patrimonio vasto di imprese artigiane di questo territorio che rappresentano un punto di forza del sistema economico e produttivo. Siamo in una fase economica per il nostro paese di speranza perché dopo sette anni di crisi cominciano a esserci segnali che dicano che potrebbe esserci finalmente una fase di ripresa della produzione, degli scambi, del commercio, del lavoro e quindi rassegne come queste sono tanto più importanti per incoraggiare gli imprenditori a investire, a produrre, a continuare con l'ene e determinazione nella loro attività e soprattutto ad accompagnarli a creare le migliori condizioni perché possano lavorare bene. Quindi bene ha fatto il Comune di Pinerolo a rinnovare questa esperienza e la città metropolitana è a fianco del Comune di Pinerolo per sostenere e aiutare gli artigiani di questo territorio e le imprese di questo territorio. Il territorio pinerolese sotto l'aspetto artigianale è quello che ha un maggior iscritti alla Camera del Commercio al 32% di iscritti, sono 5.000 imprese circa che sono iscritte c'è volontà di reagire a questo momento particolarmente difficile del nostro Paese noi facciamo la nostra parte e sono certo che gli artigiani che sono impegnati in questo caso parliamo degli artigiani che sono impegnati particolarmente stanno facendo veramente la sua in un momento così di crisi mordente che mette a dura prova la loro capacità e la voglia di reagire. Grazie a tutti!